Mi hanno detto che ho preparato qualcosa di speciale insieme alla famiglia e così via. Mi ha fissato per andare a mangiare al ristorante. Non so se ci arriveremo, ma in centro ho visto delle visioni... Sì, c'è gente che è fuori di Zucca. Sembrano anche in tanti. Per cui valutiamo se magari passiamo lì, però se passiamo lì magari... Non ne uscite più. Esatto. Sento, visto che è appena finita la partita, credo che si è andato negli spogliatoi con i suoi figli, con Luca, con Stefano. Un entusiasmo alle stelle, veramente. I ragazzi ci aspettavano per entrare in spogliatoi. C'è stata un grande gioia. È stato veramente emozionante. E sono quelle occasioni che nascono quando si fanno delle grandi imprese. A Pus sembra già incontenibile anche lì. Ho visto uno che danza, balla, mi sa che farà tanti soldi con quel disco lì. Anche l'allenatore lo sospettiamo, però, su Stapapu Dance. Adesso fatelo con loro. E' solo il caso di quinto posto. Io nel caso di quinto posto vedrò cosa fare. Solo ed unicamente dire grazie, grazie mille, tifosi fantastici. Questo è un premio per tutti i bergamaschi. Mediaticamente, in tutto il mondo, stanno parlando di Atalanta, di Bergamo, gratis. Le facciamo pagare, che dovrebbe qualcun altro anche pagare. Tutta questa operazione di marketing che, grazie all'Atalanta, a livello internazionale, sta ottenendo. Grazie di cuore, insomma, a tutta la tifoseria. Che abbiamo già detto, stasera ha toccato dei vertici di tifo e di affetto, di passione. Vedi che amano l'Atalanta e questi sono i primi ad essere rispettati, insomma. Quindi grazie a loro. Speriamo di coinvolgere sempre più le famiglie, sempre più i bambini. C'è una strategia della società importante. Quindi abbiamo tantissime altre cose da fare sotto ogni aspetto. Diciamo che le idee non ci mancano. Poi bisogna realizzarle. Tante volte escono bene, alcune magari un po' meno. O magari dopo un certo periodo. Però siamo sulla strada giusta. Sono contento di questo. Perché l'Atalanta avrà un futuro in termini strategici, di idee e di sviluppo veramente interessanti.